Mercoledì c'è stata una manifestazione promossa da Federcofit con l'ingresso, la sfilata in città di un corteo di carri funebri che hanno manifestato contro la decisione dell'Astle e dei due comuni del Terramano di affidare i servizi dell'obitorio, dell'ospedale e dei cimiteri cittadini a una ditta che loro giudicano in posizione di dominanza, quindi secondo loro non sarebbe questa giudicazione corretta. Che cosa possiamo rispondere? Noi rispondiamo che è giusto che ognuno i protesti rientra nel diritto di ognuno a protestare e manifestare. Quello che io dico come Asl è che noi abbiamo fatto una gara appalto, la gara appalto l'ha vinto la ditta Agli Angeli, quindi noi sin dall'inizio abbiamo cercato di vederci bene in questa situazione perché sappiamo con chi si ha a che fare e dall'inizio per noi è emerso che tutto era regolare. Qualche mese fa già in stampa comparivano le prime la mente da parte di questa associazione, io come direttore amministrativo ho interessato l'ufficio regale, l'ufficio regale abbiamo scritto l'ufficio acquisti e abbiamo rifatto una verifica completa anche interessando gli organi regionali perché qui c'è una normativa regionale del 2012 che disciplina tutta la materia. Il cavillo è molto complicato perché il disguido, loro dicono che i requisiti devono essere tutti posseduti, invece non è così da una nostra interpretazione, da quello che emerge dal contenuto della legge, emerge che il comportamento dell'azienda è stato corretto, come hanno ribadito gli uffici preposti agli acquisti, però non essendo sufficiente tutto questo abbiamo anche chiesto un parere a un legale. Grazie a tutti.